Siamo visti, andiamo adesso. Qua il limite è 90. Per cui, quando vuoi, sta 1.3. Andiamo qui, prendo il dritto. Qui lì, vedo quanto è 90. Già un concetto di sarto all'istante. Allora, adesso quest'anno pure i limiti, a parte qui c'è pure i 70. Non ce li ha scelto? Ehm, piene di sottrina. Sì, ma il massimo è 90 qui, quindi quando vuoi. Chiudilo subito, come te capi. 300 metri. 169. Ok. Hai preso? Nel senso. 162. Quanti questo prende più, guarda. 175. 370. Sto rimisurando di nuovo. 171. Ok, il limite è a 70. Il caso è chiuso qua, no? Sì, sì. Adesso voglio vedere un attimino. Sì, lo vediamo pure. Invece è 90. Invece è 90. Invece è 90. Fu. Ci sono anche. Quanti.